Denunciato dalla polizia, il proprietario di un noto locale dell'Accese organizzava serate da ballo senza le apposite autorizzazioni. Gara deserta da Ciriale per la copertura provvisorio del servizio di igiena ambientale, l'attività della Senesi in scadenza domani non subirà interruzioni. Costi della politica, Giarre si lavora per modificare il regolamento e consigliare lo statuto così da adeguarsi alle disposizioni regionali. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi gli argomenti principali di giornata, tra gli altri, spazio anche a Daci Catena dove si è svolto stamattina un convegno sul racket e la criminalità organizzato dalla locale sportello antiracket Libera Impresa, un convegno dal quale emerge come alcuni imprenditori negli ultimi mesi abbiano segnalato vessazioni da parte della criminalità. Tornando ad A Ciriale invece spazio alla seconda tappa di Vivaci, il gusto dell'estate 2015 in scena ieri sera in piazza San Domenico, per lo sport infine spazio alla Ciriale Calcio che prosegue la preparazione precampionato alla Tuparello e intanto è in arrivo anche un altro colpo di mercato che sarebbe la ciliegina sulla torta. Ma come sentito dai titoli partiamo dalla cronaca perché la polizia di Ciriale ha denunciato il proprietario di un noto locale dell'Acese dove si organizzavano serate danzanti fuori norma. Sentiamo. Ballare la sera ma in sicurezza. La polizia del commissariato di A Ciriale sta conducendo una campagna contro le cattive abitudini di alcuni locali di organizzare serate da ballo senza le apposite autorizzazioni e senza apparecchiature a norma. Il blitz effettuato dagli agenti di polizia infatti è arrivato nel bel mezzo di una serata danzante con oltre 300 persone nei locali dell'ex Lavela con tanto di dj e impianto acustico, il tutto naturalmente senza nessuna autorizzazione specifica. La posizione del titolare che è stato denunciato proprio per la mancanza delle autorizzazioni e dei titoli specifici riguardo alle norme di sicurezza è stata aggravata dal fatto che l'uomo fosse già stato diffidato dall'organizzare serate del genere. Ad attrarre nell'attenzione della polizia lo spropositato numero di macchine parcheggiate all'esterno del locale in un tratto della provinciale per riposto a ridosso di un doppio tornante. La presenza di cosettante auto aveva infatti ingolfato il traffico sul tracciato. La polizia ha voluto così ribadire il proprio impegno nel garantire le condizioni di sicurezza in luoghi dove il sovraffollamento, in presenza di molte apparecchiature elettroniche non a norma, comporta il rischio che un fatto banale possa poi trasformarsi in tragedia. Abbiamo argomento via libera ieri alla riforma delle province siciliane dunque anche alla nascita dei sei liberi consorsi di comuni e delle tre città metropolitane Catania, Palermo e Messina. L'Arsi infatti ha terminato l'analisi dei 46 articoli che compongono la legge, manca adesso solo il voto finale che l'aula dovrebbe pronunciare nelle prossime ore, la seduta inizia alle 14. Per dar vita agli organi di area vasta si ricorrerà a elezioni di secondo livello, saranno cioè sindaci e consiglieri comunali ad eleggere le amministrazioni dei liberi consorsi e non saranno automaticamente dunque i sindaci delle grandi città a diventare sindaci anche delle aree metropolitane. Ma per candidarsi il sindaco di uno dei comuni ricadenti nell'area metropolitana dovrà avere di fronte almeno 18 mesi di mandato rimanenti e questo di fatto esclude dal primo turno sia il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che quello di Catania, Enzo Bianco. Dalla pubblicazione della legge passeranno però ancora almeno sei mesi, visto che è stata fatta salva la possibilità di modificare le adesioni dei comuni a questo o a quel consorzio a prescindere dall'ex provincia di appartenenza. Uniche condizioni per formare nuovi liberi consorsi dovrebbero essere quella della continuità territoriale e della popolazione minima complessiva di 180 mila abitanti. Una speranza questa che anche a Ciriale potrebbe coltivare con la costituzione del libero consorzio ionico etneo che nella foto che vedete in sovrimpressione sarebbe quello in rosso per intenderci. Si è tenuto stamane invece l'incontro tra l'amministratore delegato della ITEM Salvo Lamantia, parliamo della Perla Ionica, e il sindaco di Ciriale Roberto Barbagallo, durante il quale sono stati presentati i render degli interni e del landscape del nuovo Hotel Hilton Catania Capomulini che diventerà il punto di riferimento per il turismo del Mediterraneo. Gli stessi progetti hanno già avuto l'approvazione dello stesso Sheikho Alamed, principale investitore del progetto con cui Lamantia si è incontrato la settimana scorsa ad Abu Dhabi. Ieri anche il figlio dello Sheikho, Sheikho Ahmed, per la prima volta a Catania, vedendo il progetto degli interni, lo ha definito come il più affascinante e bello in cui stanno investendo. Cambiamo ancora argomento, ma restiamo ad Aciriale. Parliamo di rifiuti, è andata deserta ad Aciriale la gara per l'affidamento provvisorio dell'incarico del servizio di igiene ambientale, l'incarico che alla Senesi scade domani. Sentiamo. Una sola ditta si è fatta avanti ad Aciriale relativamente alla manifestazione di interesse avviata dal locale comune in ordine all'indagine di mercato per l'affidamento provvisorio del servizio di gestione e rimozione dei rifiuti soliti urbani. Nonostante però questa unica presenza, il direttore area pianificazione urbanistica ambientale, dottor Giovanni Barbagallo, in considerazione della normativa vigente, ha dichiarato la gara deserta, non potendo disporre di altre offerte se non quella unica della ditta Senesi, in atto la società che sta espletando il servizio nel territorio di igiene ambientale. All'esame della documentazione sono state riscontrate tutte le voci richieste, evidenziando così di disporre la Senesi di tutti i requisiti tecnici ed economici per poter effettuare il servizio. Erano però assenti l'offerta relativa ai possibili costi da sostenere da parte del comune e ancora il documento di iscrizione alla White List per la quale la ditta ha dichiarato di avere inoltrato la richiesta lo scorso aprile alla competente prefettura marchigiana di Fermo. L'affidamento residuale alla Senesi verrà accessare domani, ma comunque il servizio, nonostante l'assenza di interesse da parte di altre ditte ad espletare l'attività, non sarà comunque interrotto trattandosi di un servizio essenziale per la collettività. La norma infatti prevede che in casi del genere possa essere la stessa ditta a suo tempo incaricata a gestire la pulizia del territorio acese senza alcuna modifica nelle modalità e orari di svolgimento, fino al momento in cui, nel prossimo mese di ottobre, come ha avuto modo di rendere noto l'assessore all'igiene ambientale Francesco Fichera, non sarà espletata la gara per l'affidamento settennale dell'incarico. Al Ciriale che intanto si prepara a festeggiare in grande stile il più bel carnevale di Sicilia d'estate. Il fine settimana più divertente e sorprendente dell'estate accesa infatti inizia domani con la mezzanotte bianca dei bambini, la Orange Revolution che trasformerà le piazze e le strade barocche del centro storico di A Ciriale in un grande circuito delle meraviglie. Sabato e domenica invece lo spettacolo dei carri allegorico grotteschi travolgerà le piazze del circuito animate da gruppi folcloristici, bande musicali e artisti di strada dalle botteghe artigianali e alla Villa Belvedere andrà in scena gratuitamente l'opera dei pupi. Le basiliche del centro storico poi per l'occasione saranno aperte per i visitatori fino alla mezzanotte. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità tra poco con la seconda parte di Reporter. A Ciriale estate 2015, gli eventi in città, spettacoli, cinema, concerti, cabaret, teatro, opera dei pupi, musica classica e il carnevale d'estate. Collegati su Facebook a Ciriale e eventi e potrai seguire il calendario giornaliero. Il 25 e 26 festeggiamenti in onore di Santa Venera, il 31 la mezzanotte dei bambini, l'1 e 2 agosto il carnevale d'estate con carri allegorici grotteschi, attività promozionali della città, musica e con il concerto il giorno 1 in piazza Duomo di Giuliano Palma. Ottica Grasso. Le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Centro ottico Zeiss, per il massimo comfort dei vostri occhi. Ottica Grasso. Adaci Reale, nuovo ampio concept store in corso Italia 122. Adaci Catena, in via matrice 34. Ottica Grasso. 34 anni. Tottica. Blue Bar, Blue Gel, Blue Bar New. Felici di stare con te. Al mare o in collina ti aspettiamo per deliziarti con le nostre produzioni. Granite e gelati di tutti i gusti, dolci prelibatissimi, tavola calda ottima. E se ti piace la siciliana puoi gustarla classica o speciale tutte le sere al Blue Bar New di Flery. Blue Bar a Stazzo, a Cireale Mare. Per chi ama il gelato, Blue Gel, a Zafferana Etnea. Questa estate ci vediamo a Giarre. Dal 31 luglio al 9 agosto. Non perdete estate a Giarre 2015. Tutti i giorni, dalle 18 a luna, artigianato, commercio, prodotti tipici, ampi aree a giochi. Tutte le sere, spettacoli e degustazioni. Sarà un grande evento all'insegna dell'allegria e del divertimento. Non potete mancare. Estate a Giarre 2015. Dal 31 luglio al 9 agosto. Organizzazione Etna Eventi Management. Oragel. Un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel. La pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi per garantire la massima qualità. Oragel. Ad Acireale in via De Amicis. Angolo via Alessandro Volta. Apriamo la seconda parte di Reporter parlando di Giarre, costi della politica. Giarre infatti si lavora per modificare il regolamento e lo statuto del Consiglio Comunale per adeguarsi alle disposizioni regionali dello scorso giugno. Sentiamo. Novità in arrivo anche per i consiglieri comunali di Giarre. Il Comune si sta infatti adeguando alla recente legge numero 11 dello scorso 26 giugno riguardante le disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. E a presentare le novità è stata una recente circolare del segretario generale Rossana Manno. Ad esempio, se una seduta di consiglio comunale si protrae nella notte, il secondo giorno e di conseguenza il secondo gettone di presenza scatta a partire dalle 2 del mattino e non più a partire dalla mezzanotte. Ma la novità principale è però un'altra ed interessa soprattutto i consiglieri impiegati pubblici o di enti privati. Per quanto riguarda infatti i permessi per le commissioni consigliari, mentre prima era possibile prendere un permesso anche per tutto il giorno, adesso invece il permesso può durare solo il tempo della commissione, più il tempo necessario per raggiungere dal proprio posto di lavoro il comune e viceversa. Ma non finisce qui, perché in un futuro, neanche troppo lontano, dovranno anche essere pubblicati verbali delle commissioni e nel sito istituzionale del comune dovrà quindi essere inserita una sezione solo dedicata ai lavori del consiglio comunale. Perché tutto ciò entra in vigore però occorrerà adesso modificare l'apposito regolamento e lo statuto entro 60 giorni. E dalla prossima consigliatura, qualora Giara continui a restare sotto i 30.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali scenderà da 20 a 16. Al momento infatti sono circa 29.500 residenti nel territorio giarrese. Per mantenere gli attuali 20 consiglieri dunque, da qui alle prossime elezioni servirebbero altri 500 abitanti in più. Il consiglio comunale di Santa Venerina ha approvato a maggioranza dei presenti il rendiconto finanziario per l'esercizio del 2014. Con l'approvazione del documento, il comune adempie così le prescrizioni imposte dal Ministero dell'Interno. Il conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione di poco superiore ai 359.000 euro. Un avanzo della gestione di competenza di poco superiore ai 377.000 euro. Soddisfatto il sindaco Salvatore Greco. Stiamo viaggiando a grandi passi verso il risanamento dell'ente, ha detto. È un lavoro silenzioso e poco percepito dalla collettività, ma è il presupposto che ci farà tornare a essere un paese normale. Le scelerate scelte del passato stanno costando tanto ai cittadini che meritano di avere al più presto un paese in grado di poter programmare le spese di cui necessita e garantire un livello di servizi più alto. Sarà discussa stasera invece nel Consiglio Comunale di Acireale la mozione contro lo spreco alimentare che ha come prima firmataria la consigliera Mariella Bonanno. Nel documento si propone all'amministrazione di creare una rete con le associazioni presenti nel territorio per la raccolta e la ridistribuzione delle eccedenze e delle rimanenze alimentari ai cittadini più bisognosi. Il Consiglio Comunale di Acireale è convocato alle 19.30 nel Salone della Polizia Municipale in via degli Ulivi. Infine lavori consigliari questa sera anche ad Aci Sant'Antonio. Il Consiglio, reduce dalla seduta straordinaria durante la quale ha approvato la delibera relativa al piano finanziario e tariffe tali per l'anno 2015 abbassando il costo della tariffa di un 8% tornerà a riunirsi per discutere di un'interpellanza sulla revisione del piano regolatore generale su due mozioni presentate dalle opposizioni sulla spending review e abbattimento dei costi della politica proposta, l'eliminazione del gettone di presenza dei consiglieri e la riduzione del 50% delle indennità degli amministratori. Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo ad Aci Catena dove si è svolto stamattina un convegno anti-racket dal quale è emerso tra l'altro che alcuni imprenditori si sarebbero già rivolti al locale sportello anti-racket per segnalare vessazioni da parte della criminalità. Sentiamo. Denunciare per liberarsi dalle catene del taglieggiamento e quanto ribadito questa mattina al municipio di Aci Catena durante una conferenza promossa dallo sportello anti-racket che libera impresa, associazione anti-racket e anti-usura aperto in città di concerto con il comune lo scorso 23 ottobre. Durante l'incontro, a cui hanno preso parte i dirigenti delle forze dell'ordine operanti nel territorio è stato confermato che lo sportello ha già ricevuto alcuni imprenditori, non solo catenoti che hanno evidenziato di essere sottoposti al pizzo denunce che hanno fatto scattare le dovute indagini da parte degli organi competenti. Il sindaco Ascenzio Maesano ha rilevato che al di là del locale comunale messo a disposizione dello sportello l'amministrazione ha iscritto in bilancio una somma di 10.000 euro per alimentare il fondo di garanzia tutela delle imprese sottoposta a vessazione. Fondo che sarebbe però distante dalla somma di 30.000 euro in un primo momento annunciato all'Associazione Libera Impresa come rilevato dal presidente Rosario Cunzolo. Il sindaco Maesano ha risposto chiedendo a Libera Impresa se altri comuni avessero o meno sin qui iscritto somme per le stesse finalità, ricevendo risposta negativa. L'amministrazione che non ha fatto mancare il supporto non farà mancare mai il sostegno quello che noi diciamo è che dobbiamo far veicolare il nome della legalità sin dal primo giorno che iniziano le scuole è bene coinvolgere i bambini perché i bambini riescono poi a convincere i papà che si trovano in questa situazione a poter denunciare sapendo che c'è lo Stato dalla loro parte sapendo che c'è questa associazione dalla loro parte sapendo anche che c'è il Comune di Ciccadene che ha messo a disposizione di questa associazione la modestissima somma di 10.000 euro il che tradotti in soldone e in attività per chi ne ha bisogno significa che c'è un giro di affari di circa 100.000 euro. Il responsabile dello sportello anti-racket Salvo Strano ha esposto le diverse azioni sin qui sostenute da libera impresa nel territorio acese affermando come i sindaci di Santa Venerina a C. Sant'Antonio, a C. Castella, a C. Buonaccorsa, a C. Reale, Valverde fossero stati invitati alla convenenza odierna nessuno però ha presenziato all'incontro e nessuno ha mandato una lettera di scuse fatto eccezione per il sindaco di Santa Venerina. Noi non ci fermeremo qui andiamo avanti li invideremo un'altra volta anzi andremo noi stessi a chiarire il progetto di cui oggi ne abbiamo parlato e sì, le nostre attività si sono abbastanza ambliate sono venuti un bel po' di imprenditori e non solo di fuori a C. Catena anche perché sappiamo benissimo che chi magari è di A. C. Reale non vuole presentarsi nella stessa cese ma andare in un altro posto abbiamo delle attività aperte importanti ci sono delle indagini in corso L'Associazione Libera Impresa che collabora con diversi protocolli con l'Associazione Nazionale Magistrati ha consegnato al sindaco una lettera da girare agli imprenditori catenoti affinché denunciano eventuali taglieggiamenti ma che spiega anche le possibilità offerte dalla legge per la riattivazione delle imprese sottoposte a racket perché un uomo senza la dignità senza il lavoro non è niente questi personaggi non fanno altro che sovrastarli io l'altra volta avevo fatto un articolo dove dicevo il prezzo della paura questo è il risultato delle paure ovviamente che hanno gli imprenditori vessati da questo fenomeno è un fenomeno che purtroppo è radicato nel nostro territorio perché a loro serve per alimentare diciamo le spese basilari che loro hanno Cambiamo argomento torniamo ad Acireale avvicendamento alla guida della Basilica di San Sebastiano Don Vittorio Rocca infatti prende il posto come amministratore della Basilica di Don Carmelo Sciuto la notizia in attesa è giunta da qualche ora l'incarico all'ormai ex parroco della matrice di Aci Sant'Antonio sarà ufficializzato a settembre ad Aci Sant'Antonio il vescove ha invece nominato parroco Don Angelo Milone che ha da poco lasciato il ruolo di rettore del seminario il primo a fare gli auguri a Don Vittorio è stato proprio Don Carmelo Sciuto che brillantemente per quasi due anni ha guidato la Basilica di San Sebastiano ai sacerdoti invece che ricopriranno i nuovi incarichi etnes per social formula i migliori auguri prende il via oggi il triduo di preparazione alla festa del perdono di Assisi in programma domenica nella chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Acireale alle 19.30 la messa celebrata da Don Carmelo Raspa domenica invece due le messe in mattinata e poi alle 19.30 una celebrazione eucaristica nella piazza antistante la chiesa celebrata da Don Giampaolo Bonanno con una processione con il crocifisso durante le celebrazioni alle condizioni tradizionali è possibile anche ottenere l'indulgenza inaugura domani invece Arte Estate una mostra allestita presso il convento San Rocco in corso Umberto 114A ad Acireale a cura dell'associazione culturale Gruppo Liberi Artisti sono stati allestiti diversi stand nel cortile di San Rocco con artigianato vario lavorazione del vetro cuoio pietra lavica ceramica e diversi stand con articoli di obistica per presepi all'interno anche una mostra dei carri in miniatura abiti d'epoca quadri foto e presepi una tre giorni in concomitanza con il carnevale estivo che apre come detto domani a partire dalle 18 poi sabato e domenica sarà fruibile dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 21 ricordiamo infine poi che da domani e fino al 2 agosto nella chiesa di San Domenico di Acireale sarà visitabile la mostra dal titolo percorsi d'arte con l'esposizione dei tesori custoditi nella monumentale chiesa di San Domenico adesso è tempo di fermarsi per una seconda breve pausa tra poco con la terza e ultima parte di reporter al caffè Garibaldi mille buonissime produzioni artigianali per chi ama gustarsi un momento dolce un gelato una squisitezza dalla tavola calda una granita più più se avete tempo fermatevi in piazza Garibaldi 33-34 ad Acireale c'è il nuovo caffè Garibaldi se non avete tempo vi aspettiamo a pranzo tutti i giorni nel ristorante al piano superiore o per una pericena ricchissimo servito al tavolo ampio spazio esterno per gustare ciò che vuoi il giovedì sabato e domenica eventi musicali live caffè Garibaldi elegantissimo spazio riservato alle mamme e ai loro piccolini servizio catering apri la tua valigia e mettici dentro il mondo puoi farlo con un briciolo di fantasia e con Scuto Viaggi e Turismo per l'estate 2015 grandi promozioni e super felicità prenota subito Scuto Viaggi rivenditori ufficiali biglietteria Expo Milano biglietteria aerea navale viaggi organizzati villaggi crociare con nuove quote e itinerari ancora più affascinanti Scuto Viaggi e Turismo via Caronda 11A ACI Reale info 095 763 2007 prenota adesso scopri lo straordinario mondo dell'Expo l'IRMA con l'adesione al principale CoreLab siciliano centralizzato ha ampliato la gamma degli esami specialistici il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio la consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto IRMA nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari l'IRMA fa parte delle otto strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'assessorato regionale per la salute rientriamo nel studio per la terza e ultima parte di reporter che apriamo con lo spettacolo con la musica di Vivaci il gusto dell'estate 2015 ieri sera infatti seconda tappa da Cireale in piazza San Domenico successo come nella prima serata vediamo seconda tappa di Vivaci il gusto dell'estate ieri sera ad Cireale dopo l'apertura in piazza Duomo stavolta è toccato ad un'altra grande piazza del centro ospitare la manifestazione dell'estate accese piazza San Domenico ed anche qui come per la prima uscita il pubblico ha risposto in massa a dimostrazione che la nuova veste organizzativa in tour per le piazze non nei singoli locali funziona nel corso della serata tanta musica con il live della band Touré Muschio e gli Allura Key che oltre alle canzoni dell'album dal titolo Viaggiante Musica Swing e Reggae ha presentato una selezione di brani d'autore da Conte a De Gregori da Dalla a Capossela ma Vivaci 2015 quest'anno non è solo musica bensì anche arte ospite speciale dell'evento infatti è stato l'artista Totò Calì poliedrico vignettista autore teatrale di canzoni che ha organizzato un'estemporanea di pittura su pannello 2x2 e poi a finire il DJ set con DJ Horacius e Max Fardelli da Radio Etna Espresso grande soddisfazione tra gli organizzatori dell'evento dai locali del territorio accese a Gianluca Mangiagli e al direttore artistico Giovanni Vasta prossimo appuntamento con Vivaci adesso fissato a ridosso del Ferragosto il 12 agosto con la terza tappa a Santa Maria la Scala perché anche le frazioni specialmente quelle a mare in periodo estivo ballano al ritmo dell'estate accese a proposito di musica anche stasera la musica classica va in scena nel centro storico di Acireale secondo appuntamento della mini rassegna di musica classica inserita nel cartellone Acireale Estate alle 21 nel cortile del Palazzo del Turismo in via Rogero 7 si esibirà il quartetto Concentus composto da professori d'orchestra del teatro Vincenzo Bellini di Catania il castello di Calataviano invece ospiterà oggi a partire dalle 19 uno spettacolo organizzato per promuovere l'integrazione tra i popoli al quale interverrà anche il vescovo della diocesi di Acireale Antonino Raspanti l'iniziativa è promossa dall'associazione Isola Qua Sud Liquid Company diretta da Emanuela Pistone verrà messo in scena lo spettacolo Life is Beautiful un rito di comunione per le vittime del Mediterraneo adesso siamo allo sport parliamo di calcio e di Acireale Calcio con la squadra Granata che prosegue la preparazione precampionato al Tuparello aspettando però gli ultimi colpi di mercato vediamo si lavora e si fatica ritmi serrati c'è da fare il pieno di energie nei muscoli e nella testa per farsi trovare pronti con i primi appuntamenti ufficiali della stagione il 30 agosto la Coppa Italia poi il 13 settembre il campionato la Cireale Calcio prosegue la preparazione al Tuparello nel frattempo il direttore generale Pasquale Leonardo lavora sul mercato auricolari nelle orecchie telefonino costantemente in mano contatti messaggi incontri come quello avvenuto proprio stamattina con Salvo Cocimano centrocampista offensivo tra i più ambiti della categoria ed inseguito a lungo dal direttore acese un faccia a faccia informale mentre Granata chissà futuri compagni di squadra dell'ex Scordia correvano e sudavano sul green del Tuparello pista possibile ma comunque difficile perché Cocimano ha richieste dall'eccellenza allo Scordia su tutti ma anche dalla Serie D con il noto che pressa per portarlo in Granata sì ma su altre coste intanto come già annunciato ieri si è aggregato al gruppo il jolly di centrocampo ed attacco Claudio Fichiera un buon colpo per la Ciriale che si assicura un 24enne di qualità e utilizzabile in più ruoli fresco vincitore tra l'altro dello scorso torneo di eccellenza con il Siracusa un ex a retuseo insomma come il difensore Giuseppe Zappalà già alla corte dei mister Ezio Raciti è già pronto per una nuova stagione da protagonista sperando nello stesso finale della scorsa secondo me il segreto in questa categoria è il gruppo avere affiatamento attaccamento alla maglia lottare su ogni pallone come se fosse l'ultimo comunque quello più importante serve grande determinazione qualità vabbè quella ci vuole in qualsiasi cosa che si fa e secondo me con una piazza del genere possiamo arrivare dove vogliamo noi noi non giochiamo in undici ma quando abbiamo un pubblico come quello di Cireale come quello che è stato Siracusa è un'arma in più secondo me gli avversari quando vengono qua già sanno a cosa vanno incontro quindi per me non è una diciamo una cosa un peso o comunque una pressione ma è una motivazione che è ben diversa guardandosi intorno in questo nuovo campionato di eccellenza chi deve guardare con attenzione la Cireale? diciamo che sono quasi tutte squadre organizzate ben costruite sarà un campionato difficile si sa l'eccellenza è un campionato difficile è difficile vincerlo perché ogni domenica trovi squadre agguerrite soprattutto quando giocano contro squadre importanti però secondo me quest'anno abbiamo buone possibilità di fare bene Restiamo in tema di sport ma parliamo di rotellistica sono rientrati con ben cinque medaglie dall'avventura marchigiana nei due trofei nazionali di Pianello Vallesina e Chiaravalle nelle Marche gli atleti dell'Accademia Rotellistica a Cireale nel dettaglio due secondi posti sono stati conquistati da Desiree Leonardi che ha conquistato anche un terzo e un quinto posto un terzo e due sesti posti invece conquistati da Riccardo Tromato un quinto e due sesti posti da Alessandro Trovato e poi ottime prove anche di Martina Longo e Vanessa Sciacca per la soddisfazione dell'allenatore Angelo Trovato adesso prossimo appuntamento il 7, 8 e 9 agosto prossimi ancora nelle Marche con il trofeo internazionale delle tre piste dell'Adriatico siamo in chiusura adesso è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per la giornata di domani tornano all'alzarsi le temperature con minima 27 gradi massima 36 alta percentuale di umidità nelle ore più calde cielo sereno con rari annuvolamenti e venti deboli mari calmi e per oggi è tutto grazie per averci seguito vi ricordo la nostra pagina facebook ufficiale tenespresso channel trattino tg reporter per le vostre segnalazioni ma anche per darvi ogni pomeriggio la possibilità di rivedere in replica i nostri telegiornali in archivio una nuova edizione di tg reporter invece torna domani puntuale alle 13 e 40 arrivederci a presto